...penso non abbia bisogno di presentazioni, onore e onere di chiudere questa rassegna, ci fa molto piacere di essere in questa cittadina che è stata almeno personalmente una bella scoperta, sinceramente una bella scoperta, e chiudiamo con un argomento che potrebbe sembrare controintuitivo, perché parliamo di mare, Acuneo, una delle città più alte d'Italia, 500 metri sul livello del mare, però parliamo di Mediterraneo. Non è un paradosso però, non solo perché in un paese bisognerebbe tutti più o meno parlare sempre delle stesse cose. Ma parliamo di Mediterraneo, Acuneo, perché siamo comunque in un pezzo del paese che traina il resto della penisola. Siamo nel nord, locomotiva di questa Italia, mi ci metto anch'io che sono di Bologna, quindi faccio parte, come voi, della parte trainante del paese. Eppure una parte che non guarda al mare, che non ha il mare nel proprio orizzonte, che ha espunto il mare dall'orizzonte di ciò che ritiene proprio, che ritiene necessario fare. Ci sono varie cause di tutto questo, le affronteremo questa sera con voi, le abbiamo affrontate ampiamente su Limes, ma appunto ci fa piacere venirne a parlare in una città che respira la montagna, che respira le Alpi e che guarda le Alpi e che può essere presa come un piccolo esempio di un atteggiamento, di un modo di vedere le cose del resto del nord Italia, che semplicemente al mare dalle spalle. Guardiamo, appunto, uso la prima persona plurale perché mi ci metto anche io, in quanto rappresentante della comunità felsinia, guardiamo alle Alpi e soprattutto guardiamo a quello che sta oltre le Alpi. Il nostro paese è fissato letteralmente con quello che accade sul continente, nel centro dell'Europa. Non solo perché le cose accadono sul continente, sì, ci sono la Germania, la Francia, l'Unione Europea, ma perché abbiamo una visione tremendamente economicistica delle cose. Siamo convinti che le cose che più contano per il destino del nostro paese siano di natura monetaria, pecuniaria. Tradotto, se il nostro paese non fa il bravo, i nostri partner, ci piace parlarne così, i nostri partner europei ci mettono dietro la lavagna. Se non facciamo le riforme, se non mettiamo i conti a posto, se non teniamo a bada il debito pubblico, insomma, se non ci conformiamo a tutti i parametri di Maastricht, tutto questo bel calderone economico, eccetera, finiamo gambe all'aria. Per carità, verissimo. Ma è solamente parte della realtà e l'analisi geopolitica serve a, se non a correggere, a informare gli sguardi dell'opinione pubblica sul modo che ha il nostro paese di stare al mondo. E decisivo, altrettanto decisivo, per il nostro destino come paese, per la nostra sopravvivenza, c'è anche quanto capita in mare, nel Mediterraneo. Poi, per carità, è comprensibile che in un anno e mezzo, quasi due ormai, come questo, non si sia guardato al mare. Il Covid, le chiusure, la crisi economica, i dibattiti su arrivano soldi o meno dall'Europa, il cambio di governo, per carità. Tutto questo, sicuramente, ci ha distratto da quanto capita nel Mediterraneo, che pure in realtà non è così distante da una città come Cuneo, perché basta attraversare il traforo del Colle di Tenda e si aprono scenari mediterranei, o quantomeno tirrenici, per il nostro... per voi. Però, a differenza di quello che capita in vacanza, quel che accade in mare non resta in mare. Inevitabilmente colpisce anche il nostro paese. Lo colpisce tutto. Non lo colpisce solamente quello che è immerso nel mare, la parte realmente peninsulare del nostro paese. Lo colpisce inevitabilmente tutto. Qualche tempo fa abbiamo dedicato un numero di Limes intero a Draghi. Voi direte che c'entra Draghi adesso con il mare? C'entra. Perché? Sicuramente la missione di Mario Draghi è quella di convincere il mondo che l'Italia non deve essere manovrata dall'esterno, cioè che l'Italia riesce a governarsi da sola, non deve essere commissariata. Può gestire in maniera relativamente autonoma risorse proprie e prestate da qualcun altro. Bene. Sicuramente questa è la sua missione. Verrà giudicato anche sulla base di questo. Ma verrà giudicato anche l'operato suo, del governo, e quindi in realtà poi di tutti noi che abbiamo dato espressione al governo che c'è adesso al potere, verrà giudicato, dicevo, non solo da come spenderemo i soldi del recovery fund, non solo da come organizzeremo l'uscita, speriamo in tempi brevi, dall'epidemia di coronavirus, ma pure da come gestiremo il mare. Che cosa intendo con questo? Intendo dire come e se l'Italia riprenderà in qualche modo una responsabilità sulle proprie acque. Acque che sono state sicuramente neglette negli ultimi decenni, anche negli ultimi secoli volendo. Ci sono tutta una serie di cause che adesso vedremo. Dicevo, gestire il mare, recuperare una responsabilità dell'Italia sul mare, compito difficilissimo, eppure inaggirabile. Vediamo prima perché è difficile il compito che ha l'Italia e poi perché è inaggirabile che vuol dire anche che cosa dovremmo fare effettivamente in mare. Compito difficile, dicevo, perché per vari motivi. Il primo è culturale. La parte trainante del paese, appunto, non è marittima. È eminentemente terragna. Il nord Italia di fatto non si affaccia sul mare perché ci sono le Alpi Marittime che poi diventano appennini a schermarlo dalla Liguria, da Genova, e dall'altra parte poi c'è sì, c'è Venezia, c'è la riviera romagnola, ma è un posto in cui andiamo a farci il bagno e basta. Quello che voglio dire è che da secoli ormai nel nord Italia non esiste una cultura marittima, non esiste una collettività, una comunità che lega i propri destini in maniera decisiva al mare. Persino Venezia in realtà non è mai stata realmente del nord Italia perché non ha mai avuto, non ha mai posseduto una proiezione territoriale. Sì, lo stato da terra esisteva, però era essenzialmente a scopo coloniale. Cioè, i veneziani non erano una popolazione terragna che si era spostata sul mare. Venezia è sul mare cenata. Punto. Questo appunto ha rimosso dalla memoria collettiva, diciamo, dalle priorità collettive delle popolazioni settentrionali l'urgenza di stare in mare, l'abitudine anche di stare in mare. Andare per mare non ce lo si inventa dall'oggi a Dolmani, è qualcosa di estremamente complicato e difficile. Il fatto che il ceppo dominante di un paese non partecipi alla marittimità del paese stesso implica che quel paese non metterà il mare al centro della propria esperienza. Poi ci sono motivazioni anche storiche, non solo antropologiche come quella che ho appena enunciato. L'unità di Italia è stata fatta anche per togliere, eliminare l'ultimo avversario dell'egemone britannico nell'Ottocento nel Mediterraneo che era il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie. L'unità di Italia è stata fatta contro questo soggetto che è stato espulso, è stato cacciato dalla storia e gli inglesi che hanno materialmente aiutato l'epopea di Cavurga, Ribaldi, eccetera, lo hanno fatto proprio per condurre l'Italia nelle mani di un regno, quello dei Savoia, che era eminentemente neanche terragno, montanaro proprio. E poi le considerazioni di carattere demografico. Siamo una nazione, come dicevo, economicistica, cioè che non pensa alla strategia, ma pensa solamente al benessere, alla pecunia, eccetera, eccetera, dunque in più è anche anziana, dunque è refrattaria alla violenza e alla violenza che stare in mare comporta. che vivere il mare comporta. Ultimo motivo del perché è difficile per l'Italia anche solo avere il mare, Dario Fabri in un fortunato saggio dell'anno scorso definì il nostro paese penisola senza mare, ecco, l'ultima motivazione è quella che possiamo vedere nell'illustrazione della carta che fra pochissimo verrà mandata alle mie spalle. nella carta che chiedo alla regia di mandare, ma ok, eccoci siamo. Questa carta ci racconta come il Mediterraneo che abbiamo battezzato Medio Oceano perché non divide solamente le terre mediterraneo ma divide anche gli oceani. Bene, ci spiega come il nostro mare rilevi nella strategia del primo attore del mondo, gli Stati Uniti. Ha un posto fondamentale, semplicemente fondamentale, perché vedete che è collocato lungo quella quel cerchio in lilla che abbiamo definito cerchio eurasiatico. Che cosa rappresenta quella linea che circonda l'Eurasia? Proprio questo, la strategia degli Stati Uniti che consiste nel circondare l'Eurasia per mantenere il più possibile lontano le minacce dal Nord America e tenere soffocati, arginati nei cortili di casa i possibili rivali, la Cina, la Russia e anche quelli di minor rilievo come la Turchia o l'Iran. Questa rappresentazione grafica della strategia americana ci dice che il Medioceano, il nostro Medioceano è rilevante proprio perché insiste su questa linea di faglia, su questo limes, effettivamente possiamo chiamarlo. perché è una posizione importante questo mare? Appunto per la sua natura medioceanica. Il Mediterraneo è diventato un gigantesco stretto, un collo di bottiglia che è necessario mantenere nella disponibilità degli americani perché il controllo del, anzi il primato degli Stati Uniti sul mondo ha la propria fondamentale dimensione nel controllo dei mari. che si esplica al meglio se si controllano gli stretti cioè i colli di bottiglia ed essendo diventato il Mediterraneo un gigantesco stretto, un gigantesco canale di transito tra un oceano e l'altro ecco che assume un ruolo fondamentale. Se il Medioceano, se questo Medioceano fosse, non so, tra Australia e Nuova Zelanda non avrebbe lo stesso peso che ha perché non è semplicemente un gigantesco canale è anche una via d'acqua fondamentale per proiettare potenza da e verso l'Europa che resta la sfera di influenza più importante che posseggono gli Stati Uniti. in questi anni va molto di moda parlare di secolo asiatico quasi convincendosi che il destino del mondo si giochi in Estremo Oriente. Non è così perché gli Stati Uniti hanno ancora la loro appunto sfera di influenza più rilevante in Europa messa giù in termini molto brutali. Gli Stati Uniti smetteranno di essere il numero uno quando perderanno l'Europa. Nel momento in cui evacueranno l'Europa vorrà dire che avranno abdicato al ruolo di primatore del mondo. Perché se guardate la presenza anche territoriale che hanno gli Stati Uniti nel globo beh non si trova un'area in cui hanno così tanta libertà di manovra come l'Europa che è semplicemente praticamente nella sua interezza nella disponibilità degli americani non così in Estremo Oriente l'unico posto in cui hanno un approdo continentale in Estremo Oriente gli americani ce l'hanno nella penisola di Corea e nemmeno tutta solo la parte che sta a sud del 38esimo parallelo l'unico vedete quanto è piccola la Corea rispetto alla pur non grande Europa. Quindi resta fondamentale il Mediterraneo nella strategia americana ma non ha l'urgenza che hanno che ha un altro teatro che è l'altro Medioceano quello asiatico quello dei mari di casa della Cina perché è ovvio lo sfidante più preoccupante degli Stati Uniti è la Cina dunque c'è urgenza di occuparsi in maniera principale di quel teatro ma ciò non vuol dire che il nostro Medioceano perda di importanza sia improvvisamente relegato alla serie B ha la stessa importanza forse anche maggiore ma semplicemente nel Medioceano di casa nostra non ci sono minacce così impellenti così urgenti non c'è una minaccia esistenziale l'unica minaccia esistenziale all'impero americano oltre ai turbamenti che agitano la pancia dell'America ma magari ne parleremo un'altra volta è proprio la Cina Cina che però non ha una presenza nel Mediterraneo sì qualcosa sì e magari ce lo dirà dopo Dario Fabri però non ha ovviamente la stessa importanza che ha nel Medioceano asiatico e quindi questo come si ricollega al nostro discorso sulla difficoltà dell'Italia di stare in mare è decisivo perché nella guerra fredda il nemico assoluto degli Stati Uniti era in Europa ed era anche molto più avanti di dove è adesso i russi allora sotto la bandiera dell'Unione Sovietica stavano a Berlino oggi stanno a Sebastopoli cioè 1700 km indietro la cortina di ferro arrivava alla soglia di Gorizia ne derivava una rendita strategica fondamentale per il nostro paese che cos'è questo concetto che sembra un po' astruso la rendita strategica non è più né più né meno che la capacità di usare la posizione geografica per i nostri interessi allora avevamo in regalo quasi dalle sorti del mondo questa condizione in cui eravamo su una linea di faglia anzi sulla linea di faglia più importante e ne guadagnavamo un certo peso un certo prestigio una certa importanza costringevamo gli americani a occuparsi di noi oggi semplicemente non è più così perché il nemico principale sta a un continente di distanza e perché la nuova cortina di ferro cioè la separazione tra la sfera di influenza russa e la sfera di influenza americana in Europa è arretrata di centinaia a volte anche oltre il migliaio di chilometri ne consegue che l'Italia mantiene ancora una discreta importanza per gli Stati Uniti perché come abbiamo visto quelle rotte che passano proprio nei mari di casa nostra restano fondamentali ma non più così urgenti e appunto sono sicuro che Dario Fabri vi illustrerà anche come i rivali degli Stati Uniti stanno provando a sfruttare questa minore attenzione che gli Stati Uniti danno al Mediterraneo senza che questa minore attenzione su questo dobbiamo essere chiarissimi si traduca in un ritiro dagli americani toglietevi dalla testa che gli americani si stiano ritirando dall'Europa in generale e anche dal Mediterraneo semplicemente per controllare il Mediterraneo servono risorse inferiori a quelle che servivano durante la guerra fredda però perché e qui veniamo alla seconda parte della formula che vi dicevo prima cioè è difficile occuparsi del mare ma inaggirabile perché inaggirabile occuparsene beh intanto perché dal mare provengono i principali cambiamenti geopolitici che il nostro paese ha attraversato negli ultimi secoli appunto l'unità d'Italia si è fatta nel modo in cui si è fatta perché c'era un interesse della talassocrazia cioè della potenza marittima di turno a che l'Italia avesse questa conformazione non si fermasse semplicemente all'Appennino se non fosse stato per appunto calcoli basati sulla geopolitica marittima gli inglesi si sarebbero accontentati come i francesi di un'Italia ferma all'Appennino tosco-emiliano e questo è il primo cambiamento che mi sembra già discretamente sufficiente ma aggiungiamocene un altro da dove è venuta la sconfitta nella seconda guerra mondiale che ancora informa il rango del nostro paese nel mondo dal mare noi studiamo tanto e ci piace guardare i film dello sbarco in Normandia ma il vero sbarco decisivo per la nostra storia è stato quello degli americani in Sicilia da lì comincia la risalita americana verso il cuore del continente sbarco di Normandia è l'anno dopo 44 non 43 e da lì inizia e lì finisce un'era un'era geopolitica del nostro paese dopo l'Italia sarà inevitabilmente qualcosa di diverso cambia completamente la nostra strategia veniamo inseriti in una sfera di influenza nella quale siamo ancora e che in gran parte determina il modo in cui stiamo al mondo e poi vabbè vi ho fatto questi esempi storici perché li trovo quelli più interessanti però ce ne sono anche di talmente basilari che mi sembra quasi di offendere la vostra intelligenza dirgli il 90% delle merci del mondo viaggia sul mare tutte le merci che arrivano in Italia o quasi arrivano dal mare infatti quando i portuali di Trieste minacciano lo sciopero la cosa assume rango strategico perché rischia letteralmente il paese di bloccarsi e poi i rapporti di forza odierni si misurano su quanto si è capaci di stare in mare su quanto si è capaci di proiettare se stessi sulle onde la gerarchia abbiamo dedicato due annetti fa un numero a questo concetto all'IMES la gerarchia delle onde è la gerarchia mondiale il numero uno è tale perché controlla gli oceani i numeri due tre eccetera eccetera sono indietro e hanno poche chance di recuperare finché non saranno in grado di contrastare gli americani sugli oceani il rango degli attori geopolitici si definisce sulla capacità di stare in mare ecco che un paese che invece dà le spalle al mare rinuncia ad avere un rango e poi e qui veramente chiudo dal mare stanno salendo sempre più problemi noi abbiamo gli occhi appunto fissi sulle alpi fissi sulla sulla germania sull'unione europea eccetera eccetera però nel mare di casa nostra stanno succedendo una serie di cose negli ultimi 10-15 anni che messe in fila devono letteralmente terrorizzare se non una popolazione di sicuro chi si occupa di strategia come purtroppo noi che ci siamo costretti sempre a occuparci dei pessimi scenari vi ho preso già troppo tempo lascio la parola al mio collega Dario Fabri che sono sicuro che riprenderà esattamente da questo punto grazie buonasera a tutti grazie a Federico grazie a voi per essere qui Federico riconoscendomi una improbabile fama non mi ha voluto presentare quindi toccherà farlo a me sono vice direttore della scuola di Limes qualcuno sostiene anche prossimo vice direttore della rivista sono comunque un redattore di Limes e mi occupo di questioni che vanno più o meno dallo scibile al sesso degli angeli nel senso che la geopolitica essendo di per sé nient'altro che un impianto mentale la sua massima presunzione può essere applicata quasi a tutti i dossier quasi a tutti gli scenari mediamente un geopolitico ha sì un ambito di afferenza un po' per mestiere un po' per piacere però deve essere in grado di destreggiarsi assumendo degli elementi in quasi tutti i campi a me il compito questa sera insieme a voi di delineare quali sono i soggetti che si muovono nel Mediterraneo e che rappresentano per l'Italia un grande problema dando per scontato che come raccontava Federico prima di me il vero problema per l'Italia nel Mediterraneo è se stessa su questo bisogna essere necessariamente chiari gli italiani hanno orrore e terrore assoluto del mare a qualsiasi latitudine da Ragusa fino a Cuneo che il mare non ce l'ha ma per renderci conto di quanto conta poco avere o no il mare se si è una nazione marittima vale la pena ricordare l'esempio degli Stati Uniti che sono la più grande talassocrazia del pianeta cioè la più grande potenza marittima del pianeta e forse la più grande della storia che hanno sì un paio d'oceani a circondarli quindi sono confinanti con i pesci per buona parte del loro territorio ma hanno stabilito la più importante base navale del loro territorio nazionale per l'appunto non sul mare la più importante base navale degli Stati Uniti si trova sul lago che è il lago Michigan nello stato dell'Illinois o Illinois ci si mette la S in italiano e rappresenta la base di primo reclutamento cioè qualsiasi americano che si arruola in marina non viene spedito sull'oceano ma viene spedito su un lago che è appunto il lago di Michigan e lì trascorre i primi mesi del suo servizio militare dentro la marina che è la più importante del mondo è come se per intenderci in Italia la marina reclutasse e conducesse nella fase di primo reclutamento sul lago di Garda più o meno siamo a questo livello ecco se l'Italia avesse questo tipo di struttura sarebbe un paese marittimo perché avrebbe condotto il mare laddove il mare non c'è che è poi quello che fanno anche gli svizzeri che hanno una discreta marina ma il mare non ce l'hanno e vincono anche l'America scappa e beati loro con soldi anche italiani quindi il primo problema dell'Italia e Mediterraneo è se stessa quel terrore orrore del mare per cui ci si fa il bagno d'estate ma poi i partiti italiani hanno freddo sempre in tutte le stagioni quindi appena arriva un po' di fresco a settembre scappano dal mare per tornarci un anno dopo anche coloro che al mare ci abitano e immaginano sognano si capisce bene perché di essere mitteleuropei evidentemente una volta gli italiani erano grandi viaggiatori oggi viaggiano pochino nel senso che si muovono con gli aerei low cost ma viaggiare è un'altra cosa evidentemente nella mitteleuropea anzi o Europa come si dovrebbe chiamare ci sono stati poco e la sognano per questo motivo perché insomma se ci si trascorre un periodo discreto di tempo il sogno si infrange quindi la nostra impostazione antimarittima è di per sé il primo problema il ceppo dominante italiano è un ceppo settentrionale questa che non era una regione all'epoca ha fatto l'unità d'Italia contro una buona fetta della popolazione italiana e si è ritrovata l'Italia alla guida con tutti i pregi che possono avere i piemontesi ma di certo non hanno la percezione del mare fra i loro pregi per lungo tempo ormai ovviamente come sapete meglio di me non c'è più quella leadership piemontese sul paese che si esaurisce di fatto all'inizio del novecento perché comunque ha condotto l'Italia nella sua dimensione attuale lontanissima dal mare dove le regioni più arretrate del paese che sul mare starebbero condizionale perché non se ne sono rese conto fino in fondo hanno un ruolo a dir poco marginale nella strategia italiana il problema qual è il problema è che se noi stabiliamo di non essere un paese marittimo come abbiamo stabilito a tavolino perché asterisco la dimensione marittima è la dimensione più complessa che esista è un paese anziano come il nostro rifugia la complessità rifugia il rischio inevitabilmente è molto più semplice stare sulla terraferma la dimensione marittima è quella più difficile di acquisizione cioè sapere andare in mare è la fase più complessa che un uomo possa attraversare e peraltro ci espone a grandissimi rischi perché si incontrano bestie notevoli nelle acque ma se stabilire di essere antimarittimi può essere una scelta questo non cambia la realtà se siamo una penisola in mezzo al Mediterraneo e decidiamo di essere antimarittimi voi capite che la tragedia è dietro l'angolo è come se semplicemente è stabilissimo di essere antiterrestri e convinti di vivere su Marte più o meno la scelta è questa per l'Italia nella sicurezza bizzarra veramente inspiegabile che il futuro stia al centro del continente perché nel Mediterraneo ci sono popoli arretrati senza rendersi conto che le potenze le principali si giocano nel loro dominio non solo nel Mediterraneo ma sull'acqua certamente sì e anche nel Mediterraneo quali sono questi soggetti che per noi rappresentano grandi problemi lasciamo da parte gli Stati Uniti gli Stati Uniti lo raccontava anche Federico prima di me dominano tutti i mari e tutti gli oceani beati loro vedremo quanto durerà che vuol dire dominare i mari non vuol dire controllarli chilometro per quadrato chilometro per quadrato questo è umanamente impossibile significa controllare quelle strettoie che sono gli stretti gli ismi noi li chiamiamo colli di bottiglia in inglese hanno una terminologia più cruda loro li chiamano choke points cioè i punti di soffocamento laddove bisogna passare per forza cioè tu puoi andare dove ti pare ma per Suez per Panama per Gibraltar per Malacca per Babbe e Maldèb e potremmo continuare devi passare necessariamente e lì teoricamente ma teoricamente ironico gli americani si frappongono e possono sbarrarti la strada questo vuol dire controllare i mari per darvi le proporzioni ammesso che la porta aerei sia l'unico elemento d'avanguardia gli americani ne hanno 12 i cinesi 1,5 l'Italia 1,5 come i cinesi così a me no ci rendiamo conto di che cosa parliamo il problema ci riconduce ad un'altra questione che non è soltanto tecnica perché la marina italiana la marina militare italiana è un'ottima marina di un paese che non pensa al mare ma è un'ottima marina e quindi finisce al servizio degli altri perché la popolazione italiana ignora anche che esista più o meno la marina militare italiana figurarsi dove va se facessimo un sondaggio l'elemento militare più importante di questo paese che peraltro ha un nome piemontese è più o meno ignoto all'opinione pubblica italiana sarebbe la cavur ma i militari che sono maschilisti la chiamano il cavur che la porta era italiana una delle migliori del pianeta di cui nessuno mediamente si interessa ma neanche lontanamente anzi l'abbiamo anche spedita proprio nel disinteresse generale a fare il periplo dell'Africa un paio d'anni fa affinché fosse avvistata da qualcuno dice casomai qualcuno la guarda se la compra anche che per noi conoscendoci non sarebbe stato mai un dramma quindi in Italia tecnicamente c'è e che non sa cosa fare perché rivelazione delle rivelazioni ai noi la natura umana è miserabile e tremenda per contare ad avere una sfera di influenza bisogna sparare credibile o almeno minacciare di farlo qualcosa che la nostra opinione pubblica cioè noi non sopportiamo anzi siamo convinti di essere l'avanguardia l'avanguardia ha espunto dalla nostra visione storica la violenza che sarebbe meraviglioso penso che su questo siamo tutti d'accordo peccato che gli altri non l'hanno fatto e quindi ci troviamo davanti i soggetti che non aspettano soltanto l'ora dell'aperitivo e non sognano la mitte dell'Europa ma sparano nel Mediterraneo per noi più o meno il Mediterraneo è soltanto una questione di migranti si parla di Mediterraneo soltanto d'estate per farci il bagno o per vedere se arrivano i migranti poi l'approccio è speculare dicotomico c'è chi i migranti li vuole accogliere e tenerli con sé c'è chi invece lo sappiamo non li vuole accogliere per niente li vuole ributtare in mare ma mediamente si discute di questo in Italia nient'altro il mare non entra in nessuna categoria in nessun'altra speculazione in nessun'altra discussione mai proprio mai non è un iperbole ma chi c'è allora nel Mediterraneo che invece si muove con un'idea del mare un po' diverso dicevo lasciamo da parte gli statunitensi che come raccontava anche prima di me Federico hanno oggi un approccio un po' distante dal Mediterraneo perché si occupano di questioni che sono più rilevanti ma il Mediterraneo è molto importante ma non così rilevante come un altro Mediterraneo che quello davanti alla costa cinese il mar cinese meridionale e quello orientale dove c'è la prima barriera di contenimento ai danni della povera Repubblica Popolare che rischia di essere strangolata dai perfidi statunitensi presi da altro nel Mediterraneo hanno lasciato spazio a movimenti anche esotici non tanto i cinesi che sì sono presenti nel Mediterraneo ma poco in forma militare sono soprattutto presenti sul piano commerciale hanno comprato il porto del Pireo che è il porto di Atene come ben sapete hanno messo gli occhi sul porto di Trieste gli americani hanno esercitato in questi ultimi due anni una notevolissima pressione sul nostro governo affinché il porto di Trieste non finisse nelle mani dei cinesi perché da quelle parti ci sono discrete basi americane del nord-est italiano l'Italia ha ancora sul suo solo 13.000 militari americani anche se sembra non sono in vacanza ed hanno impedito ai cinesi di prendersi Trieste ma se ne è preso un consorzio tedesco state tranquilli non è comunque rimasto italiano il porto un consorzio di Hamburgo peraltro d'Amburgo viene il prossimo premier tedesco fatevi due calcoli si chiama Scholz se non l'aveste sentito nominare e si mormora udite udite che dentro il consorzio d'Amburgo ci siano anche soldi cinesi chi l'avrebbe mai detto ma la Cina oltre questo nel Mediterraneo non va qualcuno potrebbe dire ti pare poco però è poco rispetto ad altri movimenti quali sono? facciamo un passo indietro nel 2011 quando noi eravamo già da una decina d'anni bellamente in Afghanistan perché notizia che questa interessa poco agli italiani ma gli italiani sono stati vent'anni in Afghanistan in una provincia che si chiama la provincia di Erat sono tornati ieri praticamente cioè a fine agosto che cosa hanno fatto e cosa facessero lasciamo da parte ne abbiamo discusso ieri sera non so chi di voi è stato così sfortunato da sentirci anche ieri sera ne discutemmo ieri e lo lasciamo da parte ma mentre eravamo dieci anni in Afghanistan qualcosa succedeva nel Mediterraneo di molto rilevante e che riguarda il dossier più importante di questo paese che non è la Mittelo Europa cioè non è il centro del continente il dossier più importante per la sopravvivenza di questo paese si chiama Libia cosa orrenda me ne rendo conto anzi mi scuso per l'averla pronunciata in questa sede però esiste sta lì ed è semplicemente non è nemmeno un paese è il territorio più importante anche per Cuneo non esiste niente di più importante anche per questa città di quello che succede in Libia sembra assurdo ma è così qual è l'importanza della Libia per l'Italia dieci secondi di grammatica strategica tutte le collettività tutte le comunità le nazioni gli impediti chiamateli come volete dipende dai casi hanno un primissimo obiettivo che è sopravvivere sopravvivere vuol dire difendersi dagli attacchi degli altri perché anche se noi crediamo che il mondo sia ormai soltanto nelle serie televisive si muore ancora e si muore ancora per potenza di influenza tutti i giorni il primo obiettivo di una collettività è difendersi da chi da chi un giorno potrebbe invaderla occuparla colpirla il primo obiettivo della grammatica difensiva è non difendersi dentro casa ci siamo fin qui se io proprio potessi scegliere eviterei di difendermi con le spalle al muro preferisco difendermi a 500 km da casa che se sbaglio il margine d'errore nella vita degli esseri umani è fondamentale se sbaglio se non sono in grado di reagire immediatamente ho tempo per recuperare comincio a rinculare se mi difendo direttamente dentro casa è già finita se sbaglio è finita da qui il concetto di quarta sponda l'Italia ha tre sponde è una penisola ne manca una quarta che è quella posta dall'altra parte del Mediterraneo che è la massima sponda su cui difendersi cioè l'Italia mentalmente per sopravvivere la necessità di controllare la Libia perché chiunque voglia invadere l'Italia lo fa dal Nord Africa sopra ci sono le Alpi voi conoscete discretamente difficile un po' troppo complesso logisticamente non ne vale la pena Federico citava un'invasione l'ultima che l'Italia ha subito nel 1943 quella anglo-americana come la segnalano i nostri testi scolastici ed è arrivata dal Nord Africa attraverso il Mediterraneo in Sicilia e l'obiettivo strategico italiano rimane identico sempre lo stesso il motivo per cui la Sardegna è una parte fondamentale dell'Italia e la Corsica non lo è anche se dovrebbe questo ci segnala la nostra influenza minore rispetto alla Francia che ha la Corsica per la stessa ragione per cui noi dovremmo avere la Libia per difendersi nel centro del Mediterraneo e non sulla costa di Marsiglia che qui ci siamo se aggiungiamo alla Libia qualcos'altro che noi nel 1911 1912 quando l'Italia quella si fortemente piemontese si lanciò sullo scatolone di sabbia guidata da Giolitti non ci accorgemmo all'epoca che sotto terra c'erano gli idrocarburi non ce ne accorgemmo mai per tutto lo stato di colonia italiana ma non per colpa nostra erano all'epoca obiettivamente il petrolio era quasi sconosciuto in giro per il mondo il primo produttore del mondo era l'Azerbaijan e non a caso i tedeschi puntarono dritti all'Azerbaijan invadendo l'Unione Sovietica ma dopo che noi ce ne andammo nel secondo dopo guerra è stato scoperto che la Libia è zeppa di petrolio non vi sto dando grandi notizie quindi improvvisamente il dossier libico è diventato di duplice rilevanza strategica per noi riguarda direttamente la nostra difesa così come l'Albania per intenderci riguarda la nostra difesa perché dall'altra parte dell'Adriatico e un attacco all'Italia si può effettuare anche dall'altra parte dell'Adriatico per cui l'Albania è stata una colonia italiana non perché avessimo chissà quale passione sentimentale per l'Albania e la Libia anche dal dopo guerra in poi un paese che ci dà approvvigionamento energetico quindi non ci riscaldiamo se capita e non abbiamo carburante se capita che qualcuno ci sottrae la Libia e ci può anche invadere ma chi ci vuole invadere? chi lo sa? lo stratega che vive sempre di brutto tempo se si occupasse soltanto di bel tempo avrebbe smesso di lavorare e le cose succedono anche repentinamente nel 2011 dove eravamo rimasti dopo questa digressione per intavolare il discorso nel 2011 i nostri amici francesi che voi avete dall'altra parte delle Alpi e i nostri amici inglesi che un po' meno amici sono che ci considerano più o meno subumani e se noi li amiamo in maniera quasi sconfinata se non andiamo a Londra ci tremano le gambe loro un po' meno nel venire da noi hanno deciso nel 2011 che la Libia era troppo italiana a guidare la Libia c'era un signore improponibile Gheddafi che pochi anni prima era arrivato a Villa Panfili che è una villa monumentale di Roma di una bellezza stordente a firmare un memorandum con l'Italia che consegnava nuovamente la Libia dentro la nostra sfera di influenza i nostri amici francesi ed inglesi stabilirono nel 2011 che noi eravamo discretamente distratti dall'Afghanistan e volte da noi stessi per intervenire in Libia e sottrarcela immaginandosi interlocutori di un nuovo regime libico che semplicemente non si è mai materializzato della Libia rimangono coriandoli da allora per di già qualcosa di decisivo nel Mediterraneo sotto i nostri occhi nella nostra classica indifferenza per cui siamo noti nel mondo è capitato da allora abbiamo provato a metterci delle pezze abbiamo provato ad intervenire più o meno in forma soft con alcuni reparti scelti poi con la nostra intelligence ci siamo in maniera un po' di noccolata mossi tra la Cirenaica e la Tripolitania con risultati discretamente scadenti abbiamo messo in salvaguardia per ora i pozzi che pertengono all'Eni che sono semplicemente decisivi per questo paese però fatichiamo moltissimo a controllarlo e qualcun altro si è inserito dentro al posto nostro chi si è inserito al posto nostro due soggetti uno è rimasto che sono i poveri francesi che stanno soltanto in Cirenaica non sono riusciti a prendersi tutto il paese hanno provato anche con il sedicente generale Aftar di cui immagino avrete sentito nominare di partire dalla Cirenaica per intenderci la parte orientale della Libia verso quello occidentale che è dove è Tripoli noi siamo rimasti stanziati a Tripoli si fa per dire siamo più presenti a Tripoli che in Cirenaica i francesi più in Cirenaica insieme agli egiziani insieme ai sauditi sono partiti ormai siamo nel 2019 alla volta di Tripoli e non sono riusciti a prenderla chi altro c'è insieme ai francesi con i quali comunque oggi noi abbiamo un discreto rapporto perché siamo accomunati non certo dai movimenti in Libia tutt'altro ma abbiamo una esigenza parallela che è quella di evitare che la Germania torni austera cioè torni a perseguire l'austerity nei prossimi anni perché se la Germania tornasse a non si va bene so che ci si racconta che l'Europa ovviamente non esiste quindi non è che ci manda i soldi un soggetto che non esiste la Germania garantisce per noi davanti ai mercati e la Lega e la Commissione Europea emette bond di cui è composto il recovery fund ho anche detto next generation EU se domani la Germania decidesse il rischio è molto alto di non voler più spendersi davanti ai mercati per noi questo paese finirebbe in default e allora noi la Francia quasi quindi noi i francesi adesso siamo tornati discretamente amici perché abbiamo questa necessità esistenziale comune il problema è che i francesi non sono più gli unici contro di noi in Libia per citare un famoso film ma nel frattempo qualcosa è cambiato nel Mediterraneo sono arrivati altri due soggetti uno un po' improbabile che sono i russi che tutto sono tranne che una potenza marittima non lo sono mai stati sono una potenza continentale per eccellenza quando hanno provato a tramutarsi in potenza marittima eravamo nel 600 addirittura inventarono una capitale che spostarono nel Baltico cioè l'attuale San Pietroburgo questo non comportò comunque il trasferimento della loro dimensione sul mare eppure visto che i russi sparano adesso si ritrovano in Cirenaica con una discreta mole di mercenari la Russia una compagine di mercenari che ha un nome lirico tedesco tra il filosofico e il musicale si chiama Wagner e per questo si ritrova in Cirenaica insieme ai francesi e agli egiziani soprattutto loro e un po' i sauditi il problema è che è arrivato anche un altro soggetto dicevo la Russia è meno preoccupante perché la Russia nel Mediterraneo non può fare granché a di là delle chiacchiere perché ha sempre un enorme problema che è quello di arrivarci nel Mediterraneo cioè in caso di guerra la Russia non può arrivare nel Mediterraneo perché raccontavamo all'inizio di due stretti che chiudono il Mediterraneo quello di Gibraltar e il canale di Suez mettiamoci anche gli stretti turchi che sono ancora più importanti cioè i Dardanelli e il Bosforo e sono tutti non solo non nella disponibilità russa ma sono tutti ostili alla Russia e dal momento che da Suez i russi non possono arrivare perché non vivono nell'Indo-Pacifico potrebbero farlo attraverso il Mar Nero e i turchi sbarrerebbero a strada ai russi quindi la Russia non è di per sé un enorme problema nel Mediterraneo però gli americani la sopravvalutano puntualmente e allora sopravvalutandola cioè non volendola vedere così attiva nel Mediterraneo hanno benedetto gli americani purtroppo per noi l'arrivo di un altro soggetto per noi molto più preoccupante che si chiama Turchia anche i turchi non sono mai stati un grande popolo marittimo però hanno un'idea di sé a dir poco magnificata cioè i turchi più o meno hanno stabilito che il mondo di loro pertinenza va dalla soglia di Gorizia letteralmente fino al Xinjiang che è la regione più occidentale della Cina che si chiama anche Turkestan orientale perché abitata da una popolazione turcofona che si chiamano gli Uiguri forse avete sentito nominare questi mesi perché i cinesi li trattano discretamente male questo soggetto gigantesco cioè la Turchia di fatto va dall'Anatolia da sé fino alla Cina attraversa tutta l'Asia centrale l'Asia centrale che è abitata da molteplici popoli turcofoni gli Uzpechi gli Azzeri i Turcomanni i Kazachi fino agli Uiguri cioè si arriva con una linea di continuità sono tutti popoli di lingua turcofona gli Azzeri gli Azzeri sono abitanti dell'Azerbaijan non sono altro che i Turchi sciiti cioè sono sempre Turchi nella loro mentalità ma afferenti ad altre nazioni con questo soggetto l'Italia fatica tremendamente e si è installato a Tripoli esattamente dove stiamo noi e comandano loro comandano comandano non solo comandano un po' noi avevamo installato prima dell'arrivo dei Turchi siamo nel 2019 un governo fantoccio a Tripoli guidato da un signore altrettanto improbabile che si chiamava Al-Sarraj ufficialmente era il governo riconosciuto dalla comunità internazionale poi che cosa sia la comunità internazionale non è mai stato chiaro però lo sentirete spesso nel gergo giornalistico questo poverino di Al-Sarraj ce l'avamo messo noi dico poverino perché è finito discretamente male quando sono arrivati i Turchi siamo nel 2020 ha alzato il telefono e ha chiamato Roma avete messo voi qui stanno arrivando i Turchi avete intenzione di fare qualcosa il caso volle che l'allora presidente del consiglio ma non è una questione politica è le fazioni politiche rappresentano il paese cioè l'idea che ha di sé una comunità la sciocchezza che l'Italia merita i politici migliori di quello che ha è una sciocchezza perché li abbiamo prodotti noi non è che vengono da Marte quando chiamarono il governo di allora il caso volle che Giuseppe Conte era al festival di Limes proprio in quelle settimane e arrivando al festival di Limes che si svolge a Genova tutti gli anni a novembre anche quest'anno raccontò con grande candore devo dire che in Italia in Libia non avrebbe sparato nemmeno un colpo infatti non abbiamo sparato nemmeno uno i Turchi hanno preso letteralmente al Sarraj è bastato fare così per toglierlo e si sono messi al posto noso che già eravamo abbastanza labili a Tripoli che sta sul Mediterraneo ed oggi come va i Turchi hanno un atteggiamento molto particolare nei confronti dei territori dove si vanno ad insediare i Turchi non fanno flirt proprio non credono nelle avventure amorose solo storie serie quindi dove vanno rimangono cominciano a gestire i servizi il welfare scaricano l'immondizia si occupano degli apparati dello Stato incominciano a dare una missione di sé alle persone che incontrano sono un popolo imperiale da secoli e secoli mettono fine alla società ellenistica nel 1453 con la caduta di Costantinopoli cioè parliamo di questo tipo di soggetti per l'Italia troppa roba per dirlo in francese proprio troppa noi fatichiamo proprio tanto tantissimo non che abbiano sparato chissà quanti colpi i Turchi a Tripoli però hanno minacciato di farlo a noi è bastato ma tanto è bastato per cui noi oggi ci ritroviamo nel Mediterraneo con i francesi che pelustrano lo stretto di Sicilia che noi chiamiamo canale di Sicilia perché stretto ci fa un po' paura in italiano si dice canale di Sicilia che è un altro collo di bottiglia fondamentale per andare da Gibraltar a Suez ci devi passare per forza se noi fossimo in grado di controllarla avremmo un grande potere sugli atti ma non siamo in grado lo perlustrano gli americani e i francesi su richiesta americana e un po' gli inglesi dall'altra parte ci sono i Turchi che dominano una parte della Libia dall'altra parte della Libia in Cilinaria che ha francesi russi ed egiziani in Tunisia quest'estate altro paese discretamente importante per il nostro per le ragioni molto simili a quelle della Libia quest'estate si è avvenuto uno strano e bizzarro colpo di stato per cui l'attuale presidente Sayed ha deposto il governo precedente semplicemente perché su spinta francese e saudita voleva far fuori un governo troppo filoturco cioè quindi gli altri si contendono sfere di influenza notevoli sul Mediterraneo con noi che siamo al centro del Mediterraneo che guardiamo e basta e in Albania e nei Balcani succede qualcosa di simile perché anche i Balcani si affacciano sul Mediterraneo cioè succede semplicemente che l'Albania ha consegnato l'ammodernamento delle sue forze armate indovinate un po' ai turchi per noi l'Albania è soltanto una chiattura per carità chi ne vorrebbe mai sapere niente l'Albania serve all'Italia come serve la Libia un po' meno ma ha la stessa importanza ed oggi l'influenza turca in Albania sta tornando preponderante asterisco gli albanesi avrete notato sono musulmani sebbene ateizzati durante la guerra fredda perché convertiti con la forza dagli ottomani che sono sempre turchi così come anche i bosniaci sono musulmani perché convertiti dagli ottomani nel corso dei secoli quindi per farla breve e concludere un paese come il nostro si ritrova ad avere orrore del mare a sognarsi più o meno tedesco senza riuscirci mai mentre laddove conta veramente cioè sul mare dove si determina la sua sopravvivenza anche quella dell'Italia che il mare non ce l'ha perché comunque qui l'apprivigionamento energetico che arriva arriva sempre da lì e non solo il rischio di un'invasione ai confrotti dell'Italia oggi o domani arriva sempre dal mare inevitabilmente laddove noi contiamo sempre meno e non necessariamente bisogna essere invasi un paese come la Turchia può dettarci le condizioni senza invaderci perché ci minacciano direttamente davanti alle nostre coste per farla semplice se la Turchia si trova a Tripoli e ci chiede qualcosa e noi non siamo disponibili a darla la sua presenza davanti alla nostra costa e il rischio quindi che possa semplicemente cannonarci per noi è intollerabile e quindi accettiamo quello che succede non ci credete scorsa settimana il Consiglio Europeo ha preparato una mozione di censura nei confronti della Turchia le mozioni di censura sono sciocchezze ovviamente però hanno un valore simbolico perché la Turchia nel frattempo aveva intrapreso una linea molto dura nei confronti di molti paesi occidentali che poi ha condotto nel weekend all'espulsione di dieci ambasciatori di paesi occidentali da Ankara quale paese tra questi non ha firmato unico la mozione di censura ai confrutti della Turchia noi che strano chissà come mai perché ce l'abbiamo davanti a casa meglio evitare si sa mai di ciò che può succedere consiglio finale di dare un occhio a quello che capita nel Mediterraneo perché anche se a noi il mare proprio non ci piace il sud anche meno ciò che succede da quelle parti è semplicemente decisivo e soltanto quando l'Italia deciderà a tavolino volesse mai il cielo di accettare il fatto di essere una nazione marittima e soprattutto è soltanto marittima perché altrimenti non esiste l'Italia ha un valore strategico per chi sta in mezzo al Mediterraneo per nessun'altra ragione né un altro quando farà pace con questa sua condizione strategica ormai sono secoli che la respinge totalmente potrà dire la sua io temo che non sarà domani temo nemmeno dopo domani ma forse discuterne un po' può stimolare qualche avvenimento positivo mi fermo qui spazio alle vostre domande grazie non so se gira un microfono sì perfetto se avete domande richieste volete dire la vostra obiezioni prego in questo gioco in questo gioco di sponte quali sono i rapporti con l'Algeria perché l'Algeria ha anche un'importanza energetica se non ricordo male il primo metanodotto attraverso il mare veniva dall'Algeria e poi mi sembra che adesso si sia anche dotata di una flotta di sommergibili russi se non ricordo male 4 o 5 diesel elettrici non atomici atomici sarebbe un bel passo sarebbero australiani quindi ecco quindi è da considerare una sponda nostra o una sponda francese allora l'Algeria è un altro dei grossi problemi dell'Italia che segnalano la nostra inazione nel mare ancora prima di dotarsi dei sottomarini che lei giustamente rileva l'Algeria si è dotata di qualcos'altro una zona marittima una zona economica esclusiva si dice in gergo cioè un confine marittimo esclusivo che entra dentro il golfo di Oristano quindi l'Algeria dice che il suo confine nel mare entra dentro la Sardegna nella nostra quasi più totale in azione si adesso si sta decidendo come dove creare la nostra ZE ma poi bisogna anche metterci le navi per difenderla e per dire che questo è roba nostra quindi anche l'Algeria ci segnala qualcosa di importante del nostro paese che lascia entrare paesi della sponda sud che considera più arretrati in casa nostra ma che evidentemente magari saranno meno arretrati dal punto di vista dello sviluppo civile ma non certo della coscienza di sé della necessità di difendersi tutto con tutto che pure l'Algeria è impegnata come altri paesi della anzi forse anche più di altri paesi della sponda sud del Mediterraneo in un gioco di potenze perché è armata pesantemente dai russi i turchi stanno stringendo notevolmente i rapporti con con il regime algerino anche qui con con il riarmo suscitando le preoccupazioni degli americani nel weekend e dei francesi invece tutti i giorni quindi anche in Algeria si gioca lo stesso grande gioco mediterraneo che si gioca altrove anche perché gli algerini sono in casa dei francesi e i francesi in questo momento hanno una fifa blu delle parti della popolazione che non sono di ceppo bianco che non sono francesi di sushi no di ceppo appunto perché temono che possano fare da quinte colonne di attori stranieri l'Algeria la Turchia che forma concretamente gli imam francesi ed essendo gli algerini una parte estremamente corposa di queste minoranze che non sono poi tanto minoranze non assimilate per loro l'Algeria è un problema fondamentale anche qui Algeria Tunisia Libia durante la guerra fredda erano in qualche modo teatro dell'influenza italiana l'Algeria meno ovviamente della Libia e della Tunisia ma vi ricordo che Leni ed Enrico Mattei aiutarono l'Algeria a diventare indipendente dalla Francia quindi a spezzare l'impero francese anche qui manovra perfetta ovviamente non causata unicamente da noi ci mancherebbe però quando vedi un vicino in difficoltà che tra l'altro controlla due sponde del Mediterraneo provi a dargli una mazzata e quello che fece l'Italia perché appunto se lo poteva permettere non solo aveva una classe dirigente lucida ma soprattutto contano le condizioni strutturali allora ci potevamo permettere questo margine di manovra perché contavamo agli occhi degli americani e potevamo anche farci in qualche modo passare certi diciamo certi colpi di coda o di testa decidete voi prego innanzitutto buonasera perché vi stimo molto anche da assiduo lettore di limes da visionatore diciamo del canale youtube in quanto trovo i vostri interventi sempre molto interessanti e pieni di punti spunti per riflettere che non si trovano spesso sui giornali insomma grazie mille giungendo all'intervento alla domanda volevo chiedere alla base di questa mancanza di consapevolezza strategica da parte del nostro paese è possibile dire che vi sia anche una mancanza di coscienza storica proprio e quindi un problema a livello magari del sistema di formazione del sistema scolastico che è il posto dove appunto le coscienze diciamo nazionali o comunque la consapevolezza del senso comune vengono create anche diciamo ecco questo è quello che vorrei sapere tanto grazie sì insomma nella sua domanda c'è anche la risposta alcune diciamo alcune inconsapevolezze sono inevitabili prendiamo quanto raccontava Federico all'inizio del suo intervento che poi è stato oggetto di alcuni articoli sull'IMES cioè il fatto che durante il tentativo italiano soprattutto piemontese all'epoca fortunatamente si intende di realizzare l'unità il Piemonte fu scelto dagli inglesi scientificamente perché soggetto non marittimo gli inglesi impressionò in senso positivo dal loro punto di vista addirittura della difficoltà che qualche decennio prima i piemontesi avevano avuto nel prendersi l'isola di Capraia che non è esattamente un grande ostacolo li scelsero e li sostenero nello sbarco dei mille se no non si capisce perché lo sbarco dei mille che erano un po' improbabili sul piano militare arrivati nella rada di Marzala una flotta come quella del regno di Sicilia che era una flotta che competeva con quella inglese non ha fatto niente questo i libri di storie italiane non lo spiegano cioè il racconto della sbarco dei mille è un racconto fluido loro partono arrivano nel frattempo attraverso il mare nessuno dice niente il regno delle due Sicilie cioè il regno di Napoli aveva una flotta ripeto che rivaleggiava con quella inglese perché? perché c'erano navi inglesi nella rada di Marzala che impedirono a quelle siciliane di intervenire al punto che ci sono i documenti storici gli inglesi può fare una parata a Via Toledo la più bella via di Napoli dopo lo sbarco dei mille ecco questo è anche comprensibile che non sia così nel dettaglio si studia un po' l'università ma che non sia nel dettaglio nei libri quelli che contano nei libri delle medie delle medie superiori perché esiste una propaganda nazionale e ci sta è comprensibile il risorgimento ha una sua aurea di eroismo che io capisco e deve essere mantenuta così il brigantaggio è stato per molti decenni derubricato nella nostra storiografia una forma di criminalità era una piccola forma di guerra civile da parte di una sezione del nostro paese che era soprattutto quella meridionale che non aveva accettato l'unità imposta dai piemontesi che chiamavano il sud Italia Africa con due F come si scriveva all'epoca gli inviati piemontesi raccontavano a Torino prima capitale del regno di essere in Africa il brigantaggio era la resistenza a tutto questo che questo non ci fosse non ci sia ancora anche se c'è tutta una tradizione di recupero in una storia soprattutto universitaria è comprensibile che la nostra pedagogia nazionale cioè lo studio della storia soprattutto della geografia neanche a dirlo che in Italia oggi siano ad uno stato molto carente e questo è molto meno comprensibile addirittura nei licei dal momento che storia e geografia non le studia nessuno hanno deciso di accorparle oggi diventa dalla geostoria si studia quindi uno non sa più bene nemmeno dove è l'una e dove è l'altra e si vede poi nei fatti per esempio la geografia che non è proprio un elemento secondario non è soltanto la barbietola da zucchero queste sciocchezze che insegnano nella geografia si vede la parte geologico fisiologica della geografia che obiettivamente può essere anche passata nel senso ci interessa meno a sapere dove si trovano i luoghi del mondo non è proprio secondario perché dà un'idea di dove si è io mi ricordo che una volta si utilizzavano le carte mute per studiare la geografia oggi arrivano i genitori a picchiare i professori se sottobbongono ai figli le carte mute io avevo un corsetto allo Iulma di Milano mi divertiva all'inizio del corso a mettere la carta mute dell'Europa a chiedere mica cose eccezionali dove è la Lettonia sulla carta muta i ragazzi del master la buona metà neanche ci prova sulla carta muta ecco credo che ci sia un notevole problema soprattutto nello studio delle maniere umanistiche perché poi non portano nessun lavoro e quindi sono state messe da parte già al lavoro pochino mediamente in Italia le materie umanistiche ne portano meno del pochino questo però ha tradotto una popolazione come la nostra che crede di vivere su Marte che di stare nel Mediterraneo non ha molta consapevolezza e che il suo destino sia nel Mediterraneo perché è così non è colpa di nessuno è fatta così l'Italia una penisola non ne ha consapevolezza quindi lei ha ragione c'è chiaramente un problema di pedagogia e che non interessa a nessuno ecco se posso aggiungere una cosa quello che dovrebbe insegnare io credo la storia è che esistono gli altri il risorgimento viene narrato come se fosse un fatto puramente italiano sì c'era Napoleone III è vero poi c'era la battaglia di Sadova nello 66 che ci ha aiutato però sono così comprimari no cioè bisogna insegnare perché poi lo si vede nella collettività italiana che tutto quello che facciamo e che non facciamo poi ha un effetto anche sugli altri anche il non fare niente viene registrato da qualcun altro ecco noi ci immaginiamo di essere così isolati dal resto del mondo ma non è ovviamente possibile non abbiamo la fortuna degli americani di confinare con pesci o con paesi non non bellicosi ecco e poi l'altra cosa che dicevi Dario del recupero no della guerra civile il brigantaggio come prima guerra civile viene sempre letta in maniera molto colpevolistica e anche questo è sbagliato è chiaro bisogna dire le cose come stanno ma non per inculcare un senso di colpa per l'unità d'Italia ormai l'unità d'Italia è stata fatta gli italiani sono nazioni sono omogenei torniamo a dare il nome alle cose senza però voler mettere in dubbio certe basi che non non si possono disfare cioè l'Italia non si disfa e allora ecco che anche questo recupero storiografico che è sicuramente importante viene sempre fatto per denunciare dei crimini che sono stati compiuti ma che però alla fine della fiera poi non interessano più nessuno cioè non c'è qualcuno che viene a recriminare perché il mio babbo è stato ammazzato no al massimo si parla del trisavolo che è stato ammazzato e fortunatamente il tempo è galantuomo e fa passare acqua sotto i ponti ma con i luoghi comuni ho finito se non ci sono vuole fare un altro a lei prego grazie sì ma fare generalizzazione è sempre molto pericoloso quindi esiste una parte dell'apparato lei si riferisce alla farnesina che sicuramente ha competenze può fare bene il suo mestiere la larga parte però dei nostri diplomatici sono italiani nel senso quindi hanno una visione delle cose che è quella di tutti noi non vengono anche loro da un'altra parte del mondo perché poi a di là delle conoscenze delle nozioni che si possono acquisire all'università oltrove ciò che poi fa la differenza è la cifra antropologica cioè la percezione che ha di sé una nazione che in maniera inconscia e involontaria pervade la nazione stessa voglio dire all'opinione pubblica turca non è che qualcuno ha inculcato necessariamente l'idea che ha è presente nell'ethos nel milieu culturale è diffuso e quindi tu la ritrovi dalla massaglia o dal barbiere quindi persone più serie fino ai diplomatici che sono meno seri di una massaglia o di un barbiere e però sono l'elite in Italia non c'è né l'una né l'altra obiettivamente in fondo spesso i nostri diplomatici si ritrovano a fare lobbying per il paese che li ospita un grande classico italiano se ne innamorano tipo la letturatura di viaggio se ne innamorano perdutamente hanno una forma erotica su di loro il paese in cui si trovano poi ritornano e fanno lobbying per il paese ma sono state in un paese che merita di più benissimo ma il tuo cioè tu eri andato lì per un'altra ragione oppure fanno gli agenti di commercio quindi che ha anche un ruolo nobile quindi facilitano per carità l'arrivo di aziende italiane nel territorio in cui si trovano perché non è però il primo ruolo della diplomazia non dovrebbe esserlo la diplomazia dovrebbe perseguire l'influenza a tout court del paese non quella economica che ne è una parte e qui fatichiamo molto quindi per rispondere alla sua domanda la risposta è mediamente no tranne alcuni casi che certamente esistono e non è giusto buttare in mare generalizzando sull'Europa lei più o meno si è risposto da sé certamente non esiste per come la vogliamo intendere non è che esiste un concetto una nazione europea esistono paesi europei che fortunatamente si ritrovano oggi in un'architettura comunitaria perché evitano di farsi la guerra aperta fin qui il ruolo dell'architettura comunitaria c'è il resto è un elemento onirico quest'estate addirittura forse prosegue anche abbiamo sentito discutere di esercito europeo ogni volta che succede qualcosa e riemerge l'esercito europeo nella convinzione che più o meno sia risico ci mettiamo al taurino tu dai una brigata a me io ne prendo una da te tutti insieme ci mettiamo la bandierina insomma l'atto più eccezionale evidentemente più drastico che può coppire un essere umano è rischiare di morire io penso che fin qui ci siamo in guerra anche se ce lo siamo dimenticato si muore morire per qualcun altro che non è legato a te da nessun sentimento non è mai successo si muore o per costrizione perché qualcuno ti impone di morire per qualcun altro o per sentimento così a taurino perché ci va lo si fa soltanto perché si crede che la guerra non esista più perché un conto è fare l'amore in Erasmus un conto è morire per qualcuno che conosciuto in Erasmus cose un po' diverse quindi l'Europa esiste fino all'Erasmus poi sulle questioni serie no questo non so se vi faccia dispiacere o vi dia sollievo ma è un po' così se non ci sono altre domande visto che sono le 10.22 noi vi ringraziamo chiudiamo anche il festival giusto? chiudiamo anche il festival siamo noi ringraziare voi ringraziamo Federico Petroni e Dario Fabri per questa serata ovviamente ringraziamo l'IMES per la preziosa collaborazione Fondazione CRC e Fondazione CRT che grazie ai contributi deliberati hanno reso possibile questo festival e ovviamente tutti i partner e i volontari ma soprattutto vorrei ringraziare voi il pubblico che ci avete seguito e con tanta passione e curiosità in queste cinque giornate e speriamo insomma di avermi offerto un'iniziativa che sia risultata interessante e speriamo di potervi avere i nostri ospiti nuovamente il prossimo anno grazie a tutti grazie 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 a tutti